Più colonnine e bus elettrici, l'assessore comunale Carla Mannetti ha illustrato il progetto di mobilità. Il 28 febbraio infatti è stato approvato e finanziato dal Cipe il progetto di mobilità elettrico messo a punto dal Comune per portare l'Aquila a dei livelli delle città del Nord Italia per quanto riguarda l'eco-sostenibilità dei servizi cittadini. Nella classifica delle città smart l'Aquila è seconda nel centro-sud e prima in Abruzzo, ha detto l'assessore Mannetti. Il nostro obiettivo è quello di far sì che in città circolano in sempre più veicoli elettrici, sia nell'ambito del trasporto pubblico che in quello privato. Il Comune, sulla scia di quanto iniziato dalla precedente amministrazione, ha stanziato così 3 milioni tra fondi comunali e finanziamenti per i progetti SUS, Sviluppo Urbano Sostenibile e Restart Abruzzo. A questa somma si aggiungono 5 milioni e 700 mila euro che il Cipe ha concesso per la realizzazione di questo progetto. Un progetto che prevede di mettere in comunicazione, mediante 18 piccoli autobus elettrici, 5 acquistati con i fondi SUS e 13 con fondi Cipe, la stazione, il centro commerciale L'Aquilone, l'ospedale San Salvatore, Terminal di Colle Maggio e stazione di Paganica. Ci saranno 42 colonnine per la ricarica delle auto, 6 stazioni di ricarica dei minibus e 27 punti di ricarica per biciclette elettriche. Un milione di euro è la cifra stanziata di cui potranno beneficiare i commercianti, gli imprenditori e tutti i professionisti le cui attività hanno sede in centro storico. Diverso è il discorso per i tassisti. Abbiamo ritenuto giusto coinvolgere tutti i tassisti operanti nel comprensore, ha detto l'assessore Mannetti. Tutti i privati interessati a dotarsi di un velicolo elettrico dovranno però attendere. L'azione di coinvolgimento dei soggetti produttivi privati avrà inizio infatti nel 2019. Sarà reso poi ecosostenibile anche il lavoro della Polizia Municipale, il cui parco macchine verrà dotato di 10 veicoli elettrici. Nonché l'utilizzo della tratta dossadale dal momento che saranno collocate con le linee di ricarica all'idosso delle uscite dell'Aquila Est e Ovest. Per quanto riguarda il back sharing, i punti di ricarica delle biciclette saranno 270. Ogni punto potrà ospitare 10 bici. Noi abbiamo appunto presentato al Cipe, a Valere sui fondi Restart, un piano per la mobilità elettrica della città dell'Aquila. Il Cipe lo ha approvato il 28 febbraio. Ci ha concesso un finanziamento di 5 milioni e 7 che si va a sommare ad altre azioni che avevamo già individuato all'interno del piano dello sviluppo urbano sostenibile e anche azioni previste nei fondi del bilancio comunale.